Un'auto percorre il lungomare tenente Massaro. Solo i fari illuminano la strada. Poco più avanti la polizia locale presidia un angolo. In quel punto le mareggiate hanno portato sull'asfalto i ciotoli e nel buio totale c'è il rischio che qualcuno si faccia male. Le immagini risalgono a due notti fa ma la situazione pietrisco a parte è la stessa da giorni. Il lungomare di Palese è al buio e se quanto portato dal mare è stato rimosso già nella mattinata di martedì non si riesce invece a far luce sul malfunzionamento che ha portato allo spegnimento dei lampioni. Non si può andare avanti in queste condizioni perché altre parti l'illuminazione comunale diciamo è sempre attiva in quanto Palese, l'illuminazione i pali, adesso l'illuminazione del lungomare. Cioè non vediamo perché succede ogni volta sempre qui. C'è un meno fregrismo totale da parte delle amministrazioni. Tra l'altro questo problema si aggiunge a quello della velocità che c'è già sul lungomare con incidenti che si verificano spesso e ovviamente con le luci spente è ancora alta velocità è una cosa che qualcuno, io voglio che qualcuno si assuma la propria responsabilità in quanto le macchine e moto qui sfresciano. Una situazione che viene avvertita ancora di più come un elemento che accresce le distanze del quartiere dal centro proprio in un momento in cui si torna a parlare di una richiesta di autonomia di Palese e Santo Spirito da parte di un gruppo di cittadini. Nel frattempo abbiamo contattato l'amministrazione comunale per chiedere lumi sulle ragioni del malfunzionamento sperando in una tempestiva risoluzione del problema.